Abbiamo lanciato questo brand un anno fa con la Mondeo 4 porte, la Mondeo Wagon. Qui a Ginevra il brand si completa con la presenza della Mondeo 5 porte, con la S-Max Vignale e con la Edge Vignale che è il nostro SUV di grandi dimensioni che lanceremo in Italia a giugno di quest'anno. Non solo, qui alle mie spalle abbiamo anche la Cuga Vignale, il restyling della Cuga che lanceremo in Italia alla fine di quest'anno avrà la sua personalizzazione vignale. Quindi è un brand a 360 gradi, oggi disponibile sulla Mondeo, sulla S-Max, sulla Edge e sulla Cuga. Vignale è il punto di vista Ford nell'area del lusso, dell'esclusività, ma anche un'esperienza di acquisto e di possesso che vogliamo dare ai nostri clienti nei nostri 35 Ford Store che abbiamo in Italia. Grazie a tutti.